Un tam-tam allarmista, quello che ha portato anche il pubblico alla commissione in cui si è parlato dell'area reduci, afferma il consigliere Dolphin, Lega, ma è inutilmente allarmista in quanto per quell'area non è ancora stato deciso nulla. Il progetto è partito ancora con l'allora assessore all'urbanistica Alessandra Penzo, giunta ferro, ora all'opposizione con Obiettivo Chioggia, ma al momento non si tratta di un progetto definitivo, quanto meno esecutivo. Per avere una visione generale dell'area reduci la si deve comunque collocare nella riqualificazione del lungomare, continua Dolphin, la cui progettazione è partita proprio con l'allora assessore Penzo. Tale progettazione prevedeva la parte centrale del lungomare, più o meno dal Valentino e i carabinieri, a un'unica carreggiata a doppia corsia, una in ingresso e in una in uscita, priva di parcheggi. L'attuale amministrazione ha bloccato tale progetto. Il nuovo progetto, sempre a cura dell'architetto Zamengo, incaricato a suo tempo dalla stessa Penzo, è stato accettato in modo da poter liquidare il professionista, ma sarà soggetto ai cambiamenti necessari. Dolphin interviene anche sulla mancanza di trasparenza di cui è stato accusato il governo da parte dell'opposizione e afferma che non appena il progetto è stato accettato è stato reso noto, è stata giustamente richiesta una commissione che è stata subito convocata. Nulla conclude e si sta svolgendo nelle segrete stanze. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono le più buone rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono. E niente, ogni tanto un po' di pizza, va bene, si mangia dolcissima, ci cioglie in bocca.